Buongiorno amici, bentornati a Longevity Now, Longevity Now FL, il canale della salute e del benessere e della longevità. Io come sempre sono Luigi Fontana, medico specialista, professore di medicina e direttore scientifico del Charles Perkins Center RPA Clinic di Nusale e Sidney. Oggi continuiamo con la traduzione del mio libro in inglese, The Path of Longevity, traduzione naturalmente in italiano. Nell'ultimo video abbiamo parlato di concetti introduttivi sui segreti dei centenari. Oggi ci focalizziamo su Okinawa, la terra degli immortali. Okinawa, la terra degli immortali. Vedete, la ricerca dell'Elisir dell'immortalità affonda le sue radici dell'antichità, con gli alchimisti della Mesopotamia e dell'antica Cina come precursori. Un capitolo significativo in questa ricerca fu scritto dall'imperatore Quixi Huang, il potente fondatore della dinastia Qin. La sua sete di vita eterna lo portò nelle regioni dello Shandong e del Yangsu, alla ricerca di medici alchimisti in grado di offrirgli l'immortalità. Era ossessionato con la vita eterna. Mi ricorda un pochettino i griconi della Silicon Valley, i biohackers, a cui auguro di trovare veramente il segreto della longevità. Tuttavia, la sua ricerca si concluse tragicamente, quando invece incontrò questi medici stregoni che, anziché donargli la vita eterna, lo avvelenarono con pozioni magiche contenenti piccole dosi di mercurio, che a loro detta erano praticamente l'alchimia che gli avrebbe donato la vita eterna, causandone la morte prematura. Il poveretto, nonostante la sua potenza e ricchezza, morì a soli 49 anni, grazie agli alchimisti. Avrebbe fatto molto meglio a cercare i segreti della longevità tra i saggi di Okinawa. Okinawa è questo magnifico arcipelago di isole tropicali che si trova nel cuore del mar Cinese orientale, a circa 640 chilometri a sud del Giappone continentale, immerso nel vasto Oceano Pacifico. Qui, qui vivono alcuni degli esseri umani più longevi e sani del pianeta Terra. Sì, sì. Secondo un censimento del 2006, Okinawa conta 68 centenari per ogni 100.000 abitanti. Fatemi ripetere, 68 centenari per ogni 100.000 abitanti. Più di quattro volte il numero riscontrato in molti altri paesi industrializzati. Giusto a titolo di confronto, per precisazione, nel 2010 nel Giappone continentale c'erano 36,8 centenari per 100.000 abitanti. Ogni 100.000 persone. In Italia 26,8, in Francia 25,8, nel Regno Unito 20,3, in Canada 17,4, nei potentissimi Stati Uniti d'America che spendono 4,2 trilioni di dollari all'anno per il loro fantastico sick care model system, soltanto 17,3 centenari ogni 100.000 persone. Nella potente e ricca Germania Deutschland 15,1 centenari ogni 100.000 abitanti e in Russia 3,8 contro i praticamente 68 della poverissima isola di Okinawa. Qual è il segreto di questa straordinaria e singolare longevità? La chiave, sembra, e dico sembra, risiedere in una quasi perfetta combinazione di fattori, un impeccabile connubio tra geni favorevoli e stile di vita salutari, i cui meccanismi stiamo studiando e sono in parte compresi. Ci stiamo lavorando. Nel 2009, animato dalla curiosità di uno scienziato e con lo spirito di un santo maso, presi la decisione di recarmi Okinawa insieme al mio collega e amico, il professor Eiji Takeda, con l'obiettivo di scoprire la pietra filosofale, scherzo, o quantomeno gettare uno sguardo critico sulla verità. La nostra prima tappa fu Naha, la vivace capitale di Okinawa, dove incontrammo il professor Craig Wilkos, Craig, un mio caro amico, che è impegnato da tantissimi anni nello studio dei centenari dell'isola e ha pubblicato diverse pubblicazioni. Con lui ci dirigemmo in macchina verso nord, fino a Ojimi, uno di questi villaggi dove risiedono alcuni dei presunti matusalemme. Al nostro arrivo, chiaramente, la ritmica tranquillità della vita di Ojimi si svelò con una potenza avvolgente. Un paradiso di foreste lussereggianti, acque cristalline, con uccelli che intonavano la melodia della natura, lontano dallo stress e dall'inquinamento del trambusto che affliggono le frenetiche città. In questo scenario ho avuto il privilegio di incontrare anime affascinanti, giovani e vecchie. Tra tutte risplende il ricordo di una donna di Okinawa di 95 anni. Vedete questa fotografia, gliel'ho fatta quando ero lì a casa sua. Felice e serena, viveva da sola e curava con amore il suo orto, vedete qui la fotografia, sul retto della casa. Alla fine, lungo il bordo meridionale del campo, le rigogliose coltivazioni di ananas, mango e papaya si fondevano in perfetta armonia con la foresta circostante, dando vita a un ambiente magico, incontaminato e rigoglioso. Come molti dei nonaginari di Okinawa, questa donna era sana, robusta, indipendente. Vedete, queste straordinarie persone, oltre a godere di una vita notevolmente più lunga rispetto alla media, sperimentano solo una frazione dei disturbi che colpiscono prematuramente le popolazioni dei paesi occidentali, che hanno degli stili di vita particolarmente dannosi. Pensate che circa due terzi di loro mantengono l'indipendenza fino alla tenera età di 97 anni. In un'indagine condotta nel 1995 è stato stimato che la mortalità totale tra le persone di età superiore ai 60 anni fosse la metà, la metà rispetto a quella riscontrata in altre regioni del Giappone. Sì, parliamo del Giappone, che di per sé registra un numero di centenari notevolmente superiore rispetto agli Stati Uniti, alla Germania e molti altri paesi sviluppati. Come potete vedere in questa figura, nelle donne di Okinawa rispetto alle donne americane la morte per malattie cardiovascolari era inferiore di 12 volte, 12 volte. La mortalità per cancro alla mammella e al colon era da 3 a 6 volte inferiore. Negli uomini di Okinawa rispetto agli americani la mortalità per l'infarto era inferiore di 6 volte, mentre quella per il cancro alla prostata era 7 volte più bassa. Impressionante. Uso l'era perché, poi vi spiegherò perché. Non è tutto. Gli anziani di Okinawa presentavano tassi significativamente inferiori di linfoma, diabete, fragilità e demenza rispetto ad altre popolazioni anziane in tutto il mondo. Alla luce di questi ed altri risultati emerge chiaramente che questi anziani sono individui straordinari. Tuttavia, la domanda cruciale rimane cosa può giustificare questa eccezionale longevità e salute? Indubbiamente alcuni geni favorevoli che si sono selezionati nel corso dei secoli giocano un ruolo importante. Analisi genetiche condotte dai fratelli Wilcox suggeriscono che alcuni di questi centenari possiedono una variante genetica protettiva del gene FOXO3 che come spiegherò nei prossimi video regola i processi di autofagia, riparo al DNA, prolefrazione cellulare, eccetera, eccetera, eccetera. Sappiamo che i bassi livelli circolanti di insulina GF1 derivanti da una dieta a ridotto apporto calorico e proteico e da una regolare attività fisica attivano il gene FOXO e il suo correlato meccanismo molecolare anti-invecchiamento, anti-cancro. Questi uomini e donne geneticamente fortunati mantengono in modo costante livelli più elevati di questo potente fattore trascrizionale. Inoltre, questi centenari mostrano una minore incidenza del gene APOE4 associato allo sviluppo di Alzheimer e malattie cardiache. Oltre alla componente genetica, che sicuramente giocano un ruolo importante, abbiamo scoperto che lo stile di vita, in particolare la dieta, ma non solo la dieta, sembrerebbe svolgere un ruolo cruciale nella straordinaria longevità dei centenari di Okinawa. Perché è cruciale? Perché, come vi spiegherò, siccome lo stile di vita è cambiato negli ultimi anni e la mortalità è aumentata, l'incidenza di malattie cardiovascolali e cancro è aumentata, ve lo spiegherò più avanti, quindi è chiaro che questo significa che i geni, seppur potenti, quando si scontrano con lo stile di vita scorretto, non riescono a proteggere. Ok? Quindi la loro alimentazione è cruciale. In passato era prevalentemente pesco-vegetariana, pesco-vegetariana. Si caratterizzava dal consumo di una vasta varietà di verdure, ortaggi, erbe selvatiche, tante patate dolci, legumi, pesce, alghe, alghe marine e frutta. E zero cibi raffinati e processati. Questi alimenti ricchi di fibre vegetali, solubili e insolubili, vitamine, sale, minerali, fitocomposti, vegetali benefici, sono contemporaneamente poveri di calorie vuote. Ma voi mi chiederete, come sappiamo cosa mangiavano queste centenari di Okinawa? Beh, lo sappiamo perché nel 1950, quando i ricercatori americani seguirono le truppe statunitense che occupavano parte dell'isola, raccolsero i loro diar alimentare, i loro dati antropometrici, ma anche diar alimentare. Come evidenziato in questa tabella di un lavoro scientifico, gli abitanti di Okinawa allora consumavano in media solo 1785 calorie al giorno, circa 1800 calorie al giorno. Ciò rappresentava circa il 14% in meno rispetto ai giapponesi dell'isola continentale, che assumevano circa 2070 calorie al di, e addirittura il 43% in meno rispetto alla media statunitense degli anni 50. Abbiamo i dati scientifici di cosa consumavano gli anni 50 gli americani, che consumavano in media la bellezza di circa 3100 calorie al giorno, il 43% in più degli abitanti di Okinawa. Anche l'assunzione di proteine grassi a Okinawa era notevolmente inferiore, come potete vedere dalla tabella, rispetto al Giappone continentale e agli Stati Uniti, con una media di 39 grammi al giorno di proteine e 12 grammi di grassi. Questi valori equivalevano al 9% e al 6% delle calorie provenienti da fonte proteiche e lipidiche. Pensate che nel Giappone del 1950 il consumo medio di proteine era di circa 68 grammi al giorno, mentre negli Stati Uniti era di 90 grammi, rappresentando il 13% delle calorie totali. Attualmente la situazione è ulteriormente peggiorata. Negli Stati Uniti e in molti altri paesi occidentali sull'onda di queste diete proteiche perché il consumo medio di proteine oscilla in media tra i 90 e i 104 grammi al giorno e in alcuni casi molti di più. Si registra anche un consumo medio di 104 grammi di grasso al giorno nei paesi occidentali, di cui 35 grammi provengono da fonti animali, acidi grassi saturi che provano la terosclerosi e 24 grammi d'acidi grassi trans e polinsaturi omega 6 che sono notoriamente pro-infiammatori. Come evidenziato chiaramente in questa tabella, la dieta tradizionale di Okinawa si distingue nettamente dalle attuali diete iperproteiche, tanto alla moda iperproteiche, chetogeniche, quindi ricche di grassi che sono bassissimi a Okinawa e di proteine che sono bassissimi a Okinawa. Appunto queste diete promuovono un'elevata assunzione di carne, prodotti animali ricchi di proteine, mentre stigmatizzano i carboidrati senza tener conto della loro qualità. Poi ne parleremo. Ci sono carboidrati e carboidrati, signore. Quindi quando parlate che i carboidrati fanno male, è vero se consumate carboidrati raffinati, processati, farine raffinate. Pensate che il rapporto tra carboidrati e proteine nei centenari di Okinawa era di circa 10 a 1. Un elemento che secondo le più recenti scoperte scientifiche potrebbe contribuire a spiegare il segreto della longevità e salute che come discuterò nei prossimi video è uno dei meccanismi cardine. Sulla base di queste crescenti evidenze scientifiche una dieta a più basso contenuto proteico e ricca di carboidrati complessi attiva risposte metaboliche che ci proteggono da molteplici malattie legate all'età come abbiamo pubblicato su Science, Nature Review, Molecular Cell Biology, Cell e tante altre riviste scientifiche. In primo luogo causano l'inibizione della IGF-1-Tor Pathway. Ma non solo la quantità di proteine, anche la fonte differiva significativamente. Come ho già accennato, gli abbianti di Okinawa si nutrivono principalmente di legumi, prodotti della soia, tofu, miso ed altri, piccole quantità di cere integrali, riso integrale, alghe e pesce, mentre negli Stati Uniti e nel nord Europa la principale fonte proteica derivava e deriva ancora oggi da tantissima carne di sui tipi, poli, tacchini, maiale, manzo, uova, latte e latticini. Pensate che a Okinawa l'assunzione media di prodotti di origine animale nel 1949 era di soli 19 grammi al giorno, di cui 15 grammi provenienti dal pesce. Questo rappresenta, come ho già detto, un netto contrasto rispetto alle attuali diete iperproteiche e chetogeniche sostenute dai vari influencers e esperti. Insomma, pensate che prima dell'arrivo degli americani sull'isola alla fine della seconda guerra mondiale, l'elemento cardine, dico cardine, della dieta degli americani di Okinawa consisteva principalmente nel consumo delle patate dolci che costituivano circa il 50%, il 50% delle calorie giornaliere alla faccia delle diete a basso contento di carboidrati. Bisogna precisare che le patate dolci di Okinawa hanno niente a vedere con le patate bianche che si trovano in commercio in Italia. Le patate dolci di Okinawa con i loro distintivi colori viola, viola intenso, che sono conosciute come beni o imo o arancione, satsuma imo, sono straordinariamente ricche di vitamina A, C, vitamina B6, manganese e altri antiossidanti, tra cui gli antociani, gli stessi pigmenti che conferiscono ai mirtilli il loro caratteristico colore violaceo. In contrasto, in altre regioni del Giappone circa il 78% delle calorie derivava da cereali, principalmente dal riso bianco, raffinato e processato, che quindi aveva perso, come spero, alcuni dei più importanti nutrienti, il germe e anche la fibra, la cusca. Durante la mia visita a Okinawa nel 2009 appresi che ogni pasto di queste straordinarie persone longeve iniziava con una zuppa di miso arricchita da tofu e alghe ed era accompagnata da generose porzioni di patate dolci, verdure a foglia verde, cavoli, cipolle, melone amaro e radici colorate come carote, zucca, daicone e curcuma. Tutti questi ingredienti venivano coltivati nei grandi orti, situati nel retro dell'abitazione di queste famiglie, come ho già spiegato. Quando chiesi se il consumo di pesce fosse abbondante, la risposta fu un categorico no. Non mangiavano pesce due volte al giorno, pranzo e cena. Nonostante l'isola fosse circondata dall'oceano, il pesce veniva consumato tre, quattro volte a settimana, la maggioranza delle proteine proveniva da legumi e prodotti della soia. Come ho detto, come ho detto, tofu e miso cucinate in diverse mille sfiziose maniere. Piccolissime porzioni di maiale erano consumate solo occosionalmente, perché? Perché solitamente al principio dell'anno veniva macellato un unico maiale per l'intera famiglia in occasione delle festività e tutte le sue parti venivano conservate e utilizzate nel corso del resto dell'anno. Un tipico detto di Okinawa, pensate, era del maiale si mangia tutto tranne la voce. Anche lardo veniva conservato e frequentemente impiegato per cucinare a causa dell'accesso limitato ad altri oli commestibili. Non ci sono piante d'olivo sull'isola di Okinawa. ma la quantità erano minuscole dai diari alimentari si è visto che soltanto il 3,7% delle calorie derivava da grassi. Inoltre dobbiamo precisare che le pratiche di allevamento dei suini differivano drasticamente da quelle degli attuali allevamenti intensivi. Gli animali erano lasciati al pascolo libero e alimentati principalmente con scarti delle verdure come le parate dolci difettose insieme ai loro steli e foglie. Il risultato è una carne molto magra con un livello relativamente più elevato di acidi grassi omega 3 benefici e una minore presenza di acidi grassi pro-aterogeni come i grassi saturi e acidi grassi pro-infiammatori come gli omega 3. E questo è un punto importante perché quando mi scrivete i commenti in risposta ai miei video mi dite quanto è importante mangiare carne che voi state molto bene perché mangiate carne voi dovete distinguere gli effetti acuti della perdita di peso legata alla restazione calorica perché avete eliminato tutti i cibi raffinati processati dagli effetti cronici e soprattutto dagli effetti cronici di consumare carni che almeno che voi non abbiate la freccia e l'arco e andate a cacciare tutti i giorni nei boschi dietro casa la carne che consumate proviene la maggioranza dei casi da allevamenti intensivi voi avete mai visto avete mai sentito la puzza che si respira quando si passa in autostrada vicino a questi allevamenti intensivi di maiali di pollame vari di tacchini le condizioni in cui vivono voi potete immaginarvi di vivere in questi stabulari con migliaia di animali ammassati con questa puzza senza sole senza aria fresca pulita non so cosa mangiano ma alcuni studi suggeriscono che questi mangimi non sono proprio il meglio del meglio e quindi insomma riflettete quando mi dite che consumate carne più volte al giorno al di là della composizione di macronutrienti eccesso proteico di acidi grassi insaturi omega 6 e tante altre cose ferroeme la qualità di questa carne insomma non so quanto sia salutare ci sono diversi studi scientifici insomma che lo dicono questo con tracce di pesticidi di fattori di crescita e via dicendo torniamo a bomba cosa mangiavano poi per dessert queste persone ecco di nuovo non consumavano torte gelate merendine caramelle ricche di zuccheri semplici che fanno male insieme alle farine raffinate al riso bianco e tante altre il pane bianco di cento ma i centinaia di okinawa finivano il pranzo con una macedonia della meravigliosa frutta locale buonissima fantastica ananas di tutti i tipi papai frutta fantastica accompagnata da una tazza di tè verde o al gersonino come dicevo prima purtroppo negli ultimi decenni anche okinawa con l'avvento delle catene di fast food destinate ai soldati americani che occupano ancora una delle circa 750 basi militari sparse per il mondo le abitudini alimentari si sono occidentalizzate e molte persone hanno registrato un aumento del peso pensate che il BMI è passato da 21 a 24 parallelamente a questo aumento si è verificato un significativo incremento della mortalità per malattie cardiovascolari e cancro quindi di nuovo i geni sono importanti ma lo stile di vita è più importante la loro dieta tuttavia rappresenta solo uno degli elementi che caratterizzano lo stile di vita salutare dei centinaia di okinawa grazie al clima bellissimo costantemente caldo e soleggiato gli uomini e le donne di questa splendida isola trascorrono gran parte del loro tempo all'aria aperta camminando in ogni luogo dedicando molte ore ai campi per coltivare e raccogliere i generosi frutti offerti da madre natura gli anziani visitano i loro orti almeno tre volte al giorno per prendersi cura degli ortaggi che amano vedere crescere e prosperare e la maggior parte degli abitanti di okinawa oltre a lavorare nei campi a camminare per muoversi dappertutto perché non c'è una macchina la maggior parte dei abitanti di okinawa partecipa regolarmente in attività ludiche comunitarie e in una forma di danza locale alcuni di loro praticano arti marziali come il karate e il kobudo entrambe originale di questa isola per loro il karate non è semplicemente un esercizio fisico ma un'arte che mira a rinforzare il corpo la mente e lo spirito Jichin Fukanoshi il fondatore dello stile del karate Shotakan che appunto è nato a Naha la capitale affermava proprio come la superficie di uno specchio pulito riflette immagini senza distorsioni così lo studente di karate deve purificarsi da pensieri egoisti e malvagi perché solo con una mente e una coscienza pulite possiamo comprendere il significato della vita soltanto con una mente e una coscienza pulita possiamo comprendere il significato della vita e assorbire tutto ciò che incontriamo durante il nostro viaggio su questo spettacolare pianeta come vi ho già spiegato in altri video la vita spirituale costituisce un elemento chiave nella nostra salute e nella quotidianità degli abitanti di Okinawa ogni persona pensate a un piccolo altare domestico presso il quale prega ogni mattina per onorare gli antenati secondo il professore Makoto Suzuki che lavora con Craig un cardiologo e geniata locale queste preghiere agli antenati , contribuiscono a ridurre lo stress e a migliorare la salute emotiva i residenti di Okinawa sono noti per la loro calma e cordialità affrontano la vita con serenità questo è importantissimo un loro detto tipico nan kurunai significa non preoccuparti andrà tutto bene non preoccuparti andrà tutto bene ricordate i video precedenti sull'importanza della filosofia credono fermamente che ogni evento nella vita abbia un significato positivo contribuendo alla crescita personale alla forza e alla saggezza e al benessere emozionale questo atteggiamento probabilmente riflette concezioni filosofiche sì concezioni filosofiche tipo quelle di cui parlavo ieri di Chuang Tzu che circolano da secoli in molte società orientali nell'I Ching nel libro dei mutamenti che ha profondamente influenzato la cultura cinese e anche quella di Okinawa si legge importantissimo questo l'uomo superiore l'uomo saggio concentra l'attenzione su se stesso e così facendo modella il suo carattere difficoltà e ostruzioni fanno piegare l'uomo su se stesso certo ma mentre l'uomo inferiore cerca di dare la colpa agli altri lamentandosi col proprio destino l'uomo superiore l'uomo saggio cerca l'errore dentro di sé e attraverso questa introspezione l'ostacolo esterno diventa per lui un'occasione di arricchimento interiore e di educazione questa è l'importanza della filosofia la filosofia che ha salvato Seneca che voleva suicidarsi perché era scontento malgrado era un uomo tra i più ricchi di Roma l'uomo ricchissimo voleva suicidarsi lui disse che si fermò da tentare la propria vita per amore del padre perché non poteva pensare al fatto che il suicido avrebbe scoinvolto la vita del padre poi incontrò la filosofia stoica e per lui fu la guarigione dice l'incontro con la filosofia stoica fu per me la guarigione il benessere nei villaggi di Okinawa continuiamo si avverte un forte senso di connessione sociale e anche questo è un altro elemento importante di cui ho discusso nei miei libri la famiglia è priorità assoluta priorità assoluta e gli anziani sono trattati con rispetto e protetti non abbandonati nelle case di cura appena non sono più utili Tsui Ya Takara è un detto che si traduce in gli anziani sono un tesoro per noi gli anziani sono un tesoro per noi in risposta gli anziani si prendono cura dei più giovani con gentilezza e amore questo sentimento è riflesso nel moto non so se lo pronuncio bene è difficilissimo questo Shikino Cui Shihishura Karasuru probabilmente sbagliato come lo pronuncio però poate pazienza che si traduce in viviamo in questo mondo per aiutarci a vicenda viviamo in questo mondo per aiutarci a vicenda per gli anziani vedere crescere i loro figli nipoti pronipoti è una delle esperienze più gratificanti della vita a differenza di molti paesi occidentali questa stretta unità familiare comunitaria aiuta gli abitanti a mantenere una vita sociale attiva nella vecchiaia e a supportarsi e sanno fondamentalmente che quando c'è un problema c'è qualcuno con cui parlare con cui condividere il dolore una forma di psicoterapia comune infatti la solitudine e l'isolamento questo eccessivo individualismo introversione io penso che sia uno dei fattori importanti che spiega l'aumento pazzesco di depressione e malattie mentali nei paesi occidentali soprattutto in quelli come quelli anglosassoni c'è molta chiusura molto distacco molta introversione come ho detto la solitudine e l'isolamento compromettono la salute studi alcuni studi scientifici suggeriscono che i danni causati dalla solitudine possono essere paragonati a fumare 15 sigarette al giorno sì 15 sigarette al giorno fatemi venire questo lungo video che spero vi sia stato che sia piaciuto con questa chicca nel villaggio di Ogini come ho detto è situato a nord ovest dell'isola si racconta di una pietra sulla spiaggia con un'iscrizione medievale che recita non so se sia vera questa iscrizione però comunque molto bella molto ispirante quindi ve la ve la leggo a 70 anni sei solo un bambino a 80 appena un giovane e a 90 se i tuoi antenati ti invitano in cielo chiedi loro di aspettare fino ai 100 solo allora forse potrei pensarci e con questo bel pensiero con questo augurio vi saluto caramente ci sentiamo presto per la continuazione della traduzione del libro che spero vi piaccia se vi piace condividete questi messaggi con i vostri amici i vostri familiari a chi volete bene questo è Longevity Now Longevity Now FL il canale della salute del benessere della longevità e della filosofia del benessere della longevità io sono Luigi Fontana medico specialista in medicina interna un professore ordinario di medicina e nutrizione il direttore scientifico del Charles Perkins Center RPA Clinic di Sydney e il direttore del programma della longevità Health for Life salute per la vita e un accademico clinico nel dipartimento di endocrinologia del Royal Prince Alfred Hospital di Sydney e con questo vi saluto ci sentiamo presto